Volevo dirvi che io mangio cibo italiano, anche perché se questo è un momento difficile è giusto comunque sostenere l'Italia in tutto per tutto e non dimenticarsi che abbiamo il cibo più buono del mondo. Non fatevi ingannare dalle fake news, mangio italiano, è buono e anche sicuro. L'hashtag è io mangio italiano, mai avuto dubbi. Mangiare frutta e verdura quotidianamente è importante, ma è importante mangiare italiano, quindi sosteniamo questa campagna promossa dalla Col di Retti. Aiuta l'Italia, mangia italiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.